La Befana viene di notte, con le scarpe tutte rotte, ma da noi invece no, le scarpe non le ho. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai, carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi, corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale, guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te, questa è Arte per te. Arte per te La particolarità di questa piccola Befanina porta dolcetti è il fatto che la costruiamo utilizzando un qualcosa di veramente carino, i guantini dei nostri figli. È una Befanina che si fa con dei piccoli guanti, le manopoline, quelle che hanno solamente il pollice e poi tutta la mano unita. È un modo che mi è sembrato carino per riciclare i piccoli guantini di Enzo che adesso non gli vanno più. Penso che sia una maniera per non lasciarli in un cassetto a sedimentare e piuttosto che lasciarli lì fermi, ho voluto trasformarli in modo da farli rientrare nella sua vita in maniera giocosa e divertita. Li ho trasformati in piccole Befanine porta cioccolatini. Volete sapere come ha fatto? E allora prendete ago e filo e spostiamoci sul piano dall'amoro che andiamo a vedere come si fa. Ed ecco l'occorrente per creare la nostra piccola Befana ricavata da dei guantini piccini picciò, le simpatiche manopoline. Ovviamente oltre che con le manopoline potrete farlo anche con i cappellini ma in questo caso non sarà corredato di braccino oppure anche con le parti finali di calzini vecchi. Tre perline o tre spilli con la capocchia così rossa e due con la capocchietta nera, ago e filo. Io ho preso qui la cassettina per prendere poi di volta in volta il colore che mi servirà. Un collant usato, io qui ce l'ho nuovo per rispetto nei vostri confronti, l'ho pagato 70 centesimi quindi non ho preso un collant usato. Ma a noi servirà solamente un pezzettino di un collant, se lo avrete usato va benissimo lo stesso. Un pochino di fil di ferro ottonato ma poco a poco ci servirà per fare gli occhiali della Befana, potrete farli anche se vorrete con dello spago a cordoncino o con del fil di ferro che poi vi premurerete di colorare di dorato con un po' di smalto, insomma con quello che vorrete. Un paio di forbici, un pennarello, un pezzetto di spago, non un'intera bobbina, uno spiedo in legno. Facoltativo avere del nastrino rosso, del nastrino verde, del nastrino dorato, è una questione di abbellimento. Della lana bianca, pochissima, e della stoffa vecchia. Ho qui una vecchissima sciarpa che non usiamo più da tantissimo tempo e invece che buttarla o darla via la riciclo perché la stoffa è adatta al nostro lavoro. Poi ci occorrerà anche l'attaccatutto, della colla a caldo, ci occorrerà anche un po' di cotone idrofilo. Iniziamo subito. Allora, lavoriamo l'ovatta fino a creare una forma ben liscia. Perfetto. E inseriamola all'interno del calzino. A questo punto, sul retro, diamole proprio la forma di una faccina. Ok? Modellandola con le mani. E sul retro, cuciamola, in maniera tale che l'ovatta rimanga intrappolata al suo interno. E tagliamo l'eccesso di filo. E anche l'eccesso di calza. Alla fine del nostro operato avremo questo, che adesso modelleremo un pochino per farla risultare tonda e paffutella. Bene, a questo punto dobbiamo ricavare il nasino. L'avevo fatto col filo chiaro, ma voi non vedevate nulla, quindi io lo faccio col filo nero per farvi vedere, ma voi fatelo col filo color carne, che sicuramente verrà più carino. Dobbiamo creare un'impuntura a circonferenza al centro della faccina. Vi faccio vedere. E non importa che c'è il nodino a fermarla, anzi deve esserci, vedete qui, perché poi lo faremo scomparire. Una piccolissima, un piccolissimo entreesci circolare. E nell'entrare ed uscire prendete un pochino di ovatta sotto l'ago. Più larga sarà la circonferenza, più grosso verrà il naso. Arrivati al punto di partenza, lì dove c'è il nodo, vedete, abbiamo fatto questa circonferenza. Ora, piano piano, tiriamo il cotone. Quando siamo soddisfatti della grandezza del nasino, smettiamo di tirare e fermiamo il punto. E taglio, e il nasino è fatto. Ora poi decideremo il verso della faccina. Se spuntano dei pezzetti di cotone, che nel mio caso sono neri, quindi sono molto evidenti, ma nel vostro caso saranno color carne, quindi non si vedranno, con la capocchia dell'ago infilateli dentro la calza, così, da una parte e dall'altra, fino a farli scomparire. Visto? Anche qui, che è nero, non si vedono quasi più. Adesso mettiamo il filo in doppio, in modo che sia più resistente, proprio, e facciamo il primo occhietto, che lo faremo un poco più su, ecco qua, rispetto al nasino. Mi raccomando, questo è un momento abbastanza delicato, perché nel tirare l'ago il cotone si potrebbe spezzare, quindi voi, quando arrivate a questo punto, assecondate lo schiacciamento, spingendo l'ovatta in avanti. Quindi bloccate con le dita, e fissate ben bene la distanza del cotone, che poi è quella a dare... Voilà! E il primo occhietto è fatto. E facciamo la stessa cosa dall'altra parte. E quello che avremo dall'altra parte sarà questo. Mettiamo il filo a uno, e adesso io farò anche le ciglia alla mia befanina, perché non la voglio brutta, quindi inserisco il primo e faccio uno e tiro. E non tiro molto, lascio molto morbido. Poi tre linette, come se fossero disegnate. volendo potreste anche disegnarle. Due. Mi piacciono. E quindi fisso sull'occhietto con un punto. Voilà! E taglio. Magari se avete delle forbicine, e verrà una cosa più o meno così, anche dall'altra parte. Ok, a questo punto sembra un mostriciattolo, ma non abbiate paura, le cose durante la lavorazione sembrano sempre più brutte di quelle che poi diventano. E allora, adesso dobbiamo fare la boccuccia. E facciamo un bel sorrisone alla nostra befanina. Entro da dietro e faccio su e giù, zac! E tiro, papete! Così. E mi fisso il punto. Qui. Ho fatto il primo buchino di lato. Poi ritorno proprio dal buchino che ho fatto. Voilà! E accenno il sorriso impunturandolo. Quindi vado giù. e tiro. Tiro, tiro, tiro. Avanti. E le nostre rughette sono venute fuori. E fisso la parte del sorriso a questa altezza. Poi ritorno diamanti, sempre da dietro. Esco da dove finisce e faccio il nostro sorriso e faccio il suo e giù finale. Anche dall'altra parte. Così. E tiro in modo da far venire la faccina proprio da vecchietta. Adesso con una pinza tagliamo gli aghetti con... lasciando appena appena un mezzo centimetro di ago. Adesso mettiamo da parte queste rosse che ci serviranno in un secondo momento. mentre infilziamo la nostra befanina con le capocchie e le mettiamo all'interno degli occhi. Cosa faccio? Metto un po' di colla tac sporco il rimanente ago e infilzo al centro di ognuno degli occhietti. Uno zac 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 così lui rimarrà attaccato. Visto? Uuuuuh la befana! E due ok ecco qua gli occhietti adesso facciamo gli occhiali ciao ciao! un pezzettino di filo diamolo sempre con la pinza così prendiamo un qualcosa di circolare io per esempio qui ho la penna fissiamo e facciamo un bel giro attorno così voilà in modo che venga un cerchietto che noi poi fisseremo così facendo tipo un nodino e facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte così quindi giro attorno tutto tutto deformo in maniera concentrica e infilo il rimanente capo all'interno così a modino per bloccare il tutto e stringo finché non arrivo alla circonferenza dell'altro quindi una volta arrivato giro e fermo il tutto così e tolgo l'eccesso con un punto attacchiamo i nostri occhiali alla faccina della Befana ora io ho questo set con tutti i colori del mondo in pratica di spagnolette che ho comprato alla Lidl per 7 euro e trovo carinissimo per questi lavoretti perché per esempio adesso userò il dorato ma voi naturalmente se non l'avete potete usare anche un nero o un qualunque colore tanto neanche si vedrà e cuciamoli dove vogliamo che stiano io quindi cucerò questo qui uno in modo che simuli anche la stecca dell'occhiale e cucio anche da questo lato due tre e al quarto faccio il norino e taglio la nostra Befanina ha il visetto quasi pronto io proprio perché li ho ma se non li avessi non li userei prendo un rosa Copic e sulla parte esterna do dei colpetti a sporcare e a simulare le guanciotte rosa perché la mia Befanina voglio che sia buona il nasino più rosso e e e prenderò anche del grigio chiaro e simulerò un po' le rughine qui dai facciamole anche delle sopracciglia quindi come vedete potreste farla anche tutta colorata bene adesso dobbiamo fare i capellini della Befana allora prendiamo della lana bianca con un punto di colla a caldo che do qua su proprio poca fisso il primo ciuffetto e poi e poi a uno a uno faccio questi ghirigori e li vado fissando uno due ok quindi sporco tutto di colla a caldo e fisso i miei ghirigori uno tac due tac tre tac da una parte quindi fisso anche le franguetta tac sempre con la colla a caldo tac sempre stando attenti a non bruciarci ed ecco la faccina della nostra Befana le manca solo lo scialle prendiamo un pezzo di sciarpa e io l'ho presa dalla parte della frangia quindi adagiamola sulla sua testolina e chiudiamole proprio il il volto incorniciandolo nella sciarpa ma facendo uscire naturalmente la faccina così ok un punto di colla a caldo quindi uno a destra qui ok che scende così uno a sinistra che scende così mettiamola anche un pochino qua torna al viso ok e chiudiamo la sciarpina della nostra Bevanina ok adesso io avendo le frange approfitto ne prendo due e faccio direttamente il fiocchetto zac così che adesso taglio e appiccico direttamente qui sotto alla sciarpina allo sciallino della Befana chiudiamo anche sotto il mento la nostra Befanuccia eccoci qua e mettiamo proprio qua anche il fiocchettone adesso alziamo il mantellino diamo un punto prendiamo ago e filo e cuciamo con il pollice in avanti la manopolina sulla parte anteriore della mantellina e anche un po' sul viso vi faccio vedere prendo la manopolina metto il pollice più avanti possibile così prendo con ago e faccio un giro e poi cuciamo la bene in meglio come riusciamo qui sul davanti sulla nostra faccia io addirittura lo cucio con con tutto la calza la mantellina i capelli in modo che rimanga ben ancorata e voilà a me è venuto meglio cucire prima mettere prima la mantellina per avere tutti i pezzi già a posto ma se a voi viene meglio cucire prima la calzetta va bene comunque io siccome voglio cucirla anche un po' alla mantellina vedete prendo capelli e un punto di mantellina e cucio allora ho preferito fare così fate un doppio giro di cucitura perché naturalmente questa subirà delle sollecitazioni penso abbastanza forti dai vostri piccolini io il mio sono sicura che la sventrerà vabbè comunque faccio un giro in avanti e un giro indietro ma mi lascio dietro lo spazio per farcirla visto e allora prendiamo il nostro stuzzicadenti ci servirà il nostro stuzzicadenti il filo verde un pochino di filo rosso un pochino di filo dorato e un pochino le tre capocchiette rosse poi un po' di spago ne ho preso più o meno un metro e un pezzetto come prima cosa arrotolo lo spago alle mie quattro dita così quindi con la parte col pezzetto passo attorno due volte a quello che ho attorcigliato così stringo forte e faccio un bel nodino e tolgo con le forbici i pezzettini che sporgono questo questo no questo lo posso lasciare fino a qui e taglio la parte bassa così e queste saranno proprio questa sarà proprio la mia scopetta prima che si sparga tutto in giro fisso qui con un punto di colla e anche qui in centro metto un punto di colla ok schiaccio ben bene il tutto assieme e lascio asciugare prendo il mio nastrino metto un po' di colla qui tutto attorno e glielo passo appiccico tutto il mio nastrino bene in maniera abbastanza ordinata taglio l'eccesso adesso col nastrino verde devo fare delle foglioline di agrifoglio e allora cosa faccio giro il mio nastrino così tac fino a formare una specie di conetto così visto così e fisso questa fogliolina con un punto di colla caldo quindi ne faccio un'altra rendo giro e giro così e faccio il secondo triangolino a modico cardina insomma e fisso e ora e taglio qui sac perché so già che tutto questo disavanzo non mi servirà prendi il nastrino lo giro indietro su se stesso e quindi sul davanti questa volta e fisso quindi con un punto di colla quindi dobbiamo fare queste sorte di triangolini che simulino leggermente l'agrifoglio e tagliare via il disavanzo da una parte e dall'altra così adesso fatto questo semplicemente mettiamo un punto di colla più copioso qui al centro e stando attenti a non bruciarci stringiamo le foglioline così l'una sull'altra teniamo chiuso e inseriamo i tre pallini rossi uno a simulare l'agrifoglio appunto prendiamo il nostro nastrino e facciamo una sorta di fiocco così quindi teniamolo ben saldo in mezzo facciamo passare al centro un cordoncino o rosso o dorato in questo caso io uso dorato e annodiamo sul retro e il nostro fiocchetto è bello e fatto anche perché al centro del nostro fiocchetto dovrà insistere il nostro agrifoglio così prendiamo un pezzo del nostro stecchino questo dipende da quanto sono lunghi i vostri ce ne occorreranno circa 13 cm diciamo così sporchiamo tutto di colla a caldo tranne un pezzettino l'estremità finale per adesso e arrotoliamo attorno adesso così molto velocemente e trasversalmente la rimanente parte del nastrino così assicuriamoci che sia tutto ben preso e anche dall'altra a questo punto bagniamo ben bene di colla a caldo la rimanente parte del bastoncino e stando attenti a non sporcare a non ustionarci infiliamola in mezzo alla parte sommitale della della scopetta inserendola così prendiamo il nostro fiocchetto e posizioniamolo qui tac quindi prendiamo il nostro agrifoglio e poggiamolo proprio sopra sempre con un punto di colla a caldo a questo punto dobbiamo ultimare la nostra super befanina pluri accessoriata cosa facciamo facciamo uscire il braccio e diamo un primo punto nella parte bassa in modo che lei stia a tenere il mantello così ma ancora non abbia coperto tutto quindi fissiamo il mantello qui sulla parte superiore ecco così facciamo imbracciare come così o così così ok facciamo imbracciare la scopa alla nostra befanina mettendo un punto di colla caldo qui sulla mano posizionandola come vogliamo che lei la tenga e tenendo forte forte la nostra befana ciao amici buono di voi e allora ecco la nostra befana porta dolcetti facciamola asciugare completamente quindi dal retro alziamo il mantellino e farciamola con tutti i dolcetti o con tutto quello che vogliamo mettere all'interno del suo corpicino quindi richiudiamo il mantellino e lei è pronta per volare dai nostri bimbi a portare tante caramelle e tutto il nostro affetto perché se facciamo un lavoro come questo per loro vuol dire che li vogliamo veramente bene adesso vado a mettere le caramelle e poi faccio le foto arrivo Avete visto che carine le manopoline befanine? Alla fine sono proprio delle bamboline porta cioccolatini. E allora mi è sembrato un modo molto bellino per fare qualcosa di diverso per questa epifania. Le calze le sappiamo fare tutti, le abbiamo fatte in passato su Arte per Te, i link li trovate nel box informazioni, i pinguini sono un'altra alternativa e su Due Cuori Una K dovrebbe già essere online un'altra alternativa data vita Gabriele che io ho visto e sono rimasta bellissima. Non è arrivato a farmi la sorpresa per l'epifania ma mi ha fatto comunque una sorpresa bellissima. Se è già online vi linko qua il video così ve lo andate a vedere subito qui Una K se no correte sul canale in questi giorni andrà online questo video che secondo me è bellissimo. Sbizzarite la fantasia, aprite i cassetti, vedete cosa c'è nei cassetti dei vostri figli e riprendete le loro cosine e riciclatele facendole diventare una parte della loro vita odierna. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia utile per questa epifania che si sta avvicinando così velocemente. Io vi auguro una felice, giocosa, divertente e dolcissima epifania. Salutatemi la Befana se la vedete e ve la saluto io se la vedo prima di voi. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, buona epifania, auguri, spero abbiate passato delle feste bellissime e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao, ciao!